il salto di qualità ragazzi c'è stato e adesso vediamo anche perché davanti ai nostri occhi abbiamo la nuova giant stance e più uno 2023 quindi la nuova piattaforma di bici stance di giant bici stance che stanno ad indicare appunto la piattaforma di bici elettriche o a pedalata assistita per chi vuole una biammortizzata di casa giant ma non vuole appunto salire troppo di budget orientandosi sulla trans sulla regna diciamo la stance è la piattaforma full suspensive più alla portata di tutti rimanendo nel marchio giant quindi prima di vedere tutti i dettagli della nuova piattaforma vediamo che al posteriore c'è un cambio shimano de or 10 rapporti con una cassetta molto particolare link glide quindi nuova concezione di shimano scala 11 43 questa è una cassetta ragazzi che promette molta più resistenza molta più robustezza molta più appunto tolleranza alle cambiate e all'usura per quanto riguarda appunto lo sforzo che trasmette una bici elettrica alla trasmissione ovviamente pedivella tutt'uno con il motore corona 36 denti anche il comando cambio è uno shimano de or 10 rapporti mentre i freni sono tectro quindi non sono shimano non sono prestigiosi magari come il marchio shimano ma sono comunque a doppio pistone sia davanti che dietro quindi assicurano sicuramente una gran bella frenata dischi da 200 3 mm di diametro quindi anche loro contribuiscono sicuramente alla frenata qui sul manubrio possiamo vedere il comando del reggisella telescopico e il display con la pulsantiera per gestire tutte le funzioni di questa piattaforma elettrica di questa bicicletta la forcella è un aeroshox 35 silver quindi ovviamente ad aria con steli a 35 mm 140 mm di escursione all'anteriore mentre l'ammortizzatore posteriore santurra idon assicura 125 mm di escursione appunto alla pio posteriore alla sospensione posteriore le ruote sono marchiate giant cerchi in alluminio canale interno molto largo 30 mm sono cerchi tubeless ready montati già con copertoni tubeless e copertoni differenziati tra posteriore e anteriore infatti troviamo un dissettor maxis 29x24 dietro e un maxis minion dhf 29x25 davanti quindi anche questo sta a sottolineare la cura del dettaglio che mette bianchi sulla proposta di allestimento di questa stance come potete vedere o meglio ve lo dico io se non avete presente il vecchio modello la bici è totalmente stata rinnovata una linea molto più filante molto più snella quasi a ricordare una bici muscolare e non una bici a pedalata assistita c'è un motore giant sync drive sport con 75 newton per metro di coppia la batteria è ovviamente integrata nel telaio cover posteriore o meglio cover bassa in plastica batteria da 625 wattora e una novità molto importante che a parte il tubo dell'olio che ovviamente va sulla forcella tutti gli altri tubi tutti gli altri cavetti si inseriscono in questa questo apposito spazio nello scodellino della serie sterzo così da lasciare più pulito possibile il telaio e lo spazio aperto sotto sotto il manubrio l'ho girata anche dal lato non drive per farvi vedere bene il motore serie sport molto molto compatto comunque 75 newton metro di coppia massima non sono pochi però appunto come potete vedere risulta molto leggero e molto snello anche alla vista con l'occasione vi faccio anche vedere i dischi di proporzioni sicuramente importanti e vi faccio anche vedere meglio lo schema della sospensione che come la tradizione giant prevede un ammortizzatore verticale e non orizzontale ammortizzatore ovviamente ad aria così come ad aria anche la forcella dunque ragazzi a me la linea di questa bici piace tanto nonostante non sia la piattaforma più costosa di giant direi che rispetto allo scorso anno l'evoluzione c'è stata sicuramente questa è una bici che costa di listino 4200 euro vi lascio qui in descrizione il link al sito per vedere prezzi scontati e disponibilità 4200 euro che al giorno d'oggi nel 2023 ci danno una bici elettrica che in passato sarebbe costata sicuramente molto di più per quello che riesce ad offrire ovvero un buon motore con un'ottima coppia assistenza e garanzia di una casa come giant che appunto oltre a dare due anni di garanzia ovviamente su un motore batteria da anche garanzia a vita sul telaio oltre ovviamente a tutta l'assistenza che può dare un marchio così prestigioso e così ampio a livello globale colorazione molto sobria come siamo abituati ormai a vedere sì diciamo già niente può fare anche di meglio questa è una colorazione molto neutra un grigio scuro probabilmente potrà accontentare più gente possibile questa che vedete è una taglia l quindi adatta per persone da un metro e ottanta circa in su diciamo fino a un metro e 478 e dicevo sì 4200 euro non è la più economica perché c'è un modello la 2 che è ancora più in basso di gamma questa sicuramente qualcosa in più ma presto vi farò vedere anche la 2 che costa qualche centinaio di euro in meno questa comunque secondo me è un ottimo rapporto qualità prezzo scontata appunto andate sul sito e vedete quanto costa ma mi anticipo già che siamo sotto i 4000 euro per prendere una full con queste caratteristiche con una batteria 625 direi che non è affatto male fatemi sapere tutte le vostre impressioni qua sotto nei commenti come al solito vi ringrazio per l'attenzione e invito a mettere un bel like a iscrivervi al canale e vi do appuntamento ad un prossimo video ciao 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 ciao